Ciò che ci accade non sono coincidenze o casualità, è il destino che ci mette alla prova, la dura prova della vita, fatta di sofferenze ma anche di sorrisi, che ci permettono di accettare il passato e di poter compiere quel passo verso l'ignoto e l'inaspettato. Siamo nuovi a scegliere quale strada percorrere.